Ischia, Vigor Lamezia, Lischia e Sischiera con Mennella, Finizio Di Agostini, Emperaio, Orsirignano, Renone, Bulevardi, Falagari, Ingretolli, Schetter, Bacio, Terracino, Vigor Lamezia, Piacenti, Spirito, Rapisarda, Giampati, Bella, Gattari, Puccio, Scarsella, Del Sante, Improta, Montella. Vediamo subito le azioni più importanti della partita. Adesso c'è una grande occasione per Improta che calcia forte ma blocca il portiere Mennella. Il ventunesimo, opportunità per Lischia, va velocissimo, Bacio, Terracino, entra dentro, pallone verso De Agostini, grande tiro, respinge il difensore. Ancora una buona opportunità per Lischia che si inserisce con Bacio, Terracino, guarda dietro, cerca un compagno, il cross e poi la Vigor Lamezia mette in angolo. Palla lunga, De Agostini sulla sinistra, ottima la partita sua, Bulevardi, un controllo, un tiro, respinge il portiere e poi blocca sull'intervento dell'attaccante Ingretolli. Montella, tiro lento, blocca Mennella. E poi ecco siamo passati nella ripresa, Falagario prova il tiro a giro ma lo tira troppo alto, punizione per la Vigor Lamezia, palla dentro, pericolosa, Scarsella non interviene e testa e poi l'azione si spegne. Ancora una punizione sempre d'improta, sempre alta. Ischia nella ripresa, lancio di Armeno, pallone per Finizio, cross De Agostini, di destro tiro prodezza di Piacenti. Forse questa è la palla con il più importante della gara ma l'Ischia continua. Bulevardi al volo, respinge ancora il portiere, poi un tiro e ancora Bravo Piacenti a bloccare. Azione di rimessa con un tiro altissimo da parte di Malerba. Siamo proprio ai minuti finali. Azione per l'Ischia, un tiro sempre alto questa volta di Armeno. C'è il cambio, entra D'Amico ed entra anche Ciotola. Sono usciti Bacio, Terracino e Schetter, entrambi autori di una buona gara. Palla lunga per Del Sante, interviene Sirignano e serve Mennella. Ultimo cambio catalano per Improta. Siamo allo scadere, palla in aria. Il pallone giunge a Ingretolli che controlla, ritarda troppo il tiro e poi tira altissimo. Ed ora c'è un'ammunizione per un fallaccio di Catalano su D'Amico. L'ultimo minuto, Emperor da due passi di testa, mette alto, occasionissima proprio allo scadere e la partita finisce così con questa grande occasione per l'Ischia. Ischia, Vigor Lamezia. L'Ischia e Sischiera con Mennella, Finizio Di Agostino, Emperaio, Ursilignano, Renone, Bulevardi, Falagari, Ingretolli, Schetter, Bacio, Terracino. Vigor Lamezia, Piacenti, Spirito, Rapisarda, Giampati, Bella, Gattari, Puccio, Scarsella, Del Sante, Improta, Montella. Vediamo subito le azioni più importanti della partita. Adesso c'è una grande occasione per Improta che calcia forte ma blocca il portiere Mennella. Il ventunesimo, opportunità per l'Ischia. Va velocissimo, Bacio, Terracino, entra dentro, pallone verso De Agostini, grande tiro, respinge il difensore. Ancora una buona opportunità per l'Ischia che si inserisce con Bacio, Terracino, guarda dietro, cerca un compagno, il cross e poi la Vigor Lamezia mette in angolo. Palla lunga, De Agostini sulla sinistra, ottima la partita sua. Bulevardi, un controllo, un tiro, respinge il portiere e poi blocca sull'intervento dell'attaccante Ingretolli. Montella, tiro lento, blocca Mennella. E poi ed ecco siamo passati nella ripresa. Falagario prova il tiro a giro ma lo tira troppo alto. Punizione per la Vigor Lamezia. Palla dentro, pericolosa, Scarsella non interviene testa e poi l'azione si spegne. Ancora una punizione sempre d'improta, sempre alta. Ischia nella ripresa, lancio di Armeno, pallone per Finizio, cross De Agostini, di destro tiro, prodezza di Piacenti. Forse questa è la palla con il più importante della gara ma l'Ischia continua. Bulevardi al volo, respinge ancora il portiere, poi un tiro e ancora bravo Piacenti a bloccare. Azione di rimessa con un tiro altissimo da parte di Malerba. Siamo proprio ai minuti finali. Azione per l'Ischia, un tiro sempre alto questa volta di Armeno. C'è il cambio, entra D'Amico ed entra anche Ciotola. Sono usciti Bacio, Teraccino e Schetter, entrambi autori di una buona gara. Palla lunga per Del Sante, interviene Sirignano e serve Mennella. Ultimo cambio, Catalano per Improta. Siamo allo scadere, palla in aria. Il pallone giunge a Ingretolli che controlla, ritarda troppo il tiro e poi tira altissimo. Ed ora c'è un'ammunizione per un fallaccio di Catalano su D'Amico. L'ultimo minuto, Emperor da due passi di testa, mette alto, occasionissima proprio allo scadere. E la partita finisce così, con questa grande occasione per l'Ischia.